Debutta online la web tv dei giovani d'Asti. Il progetto voluto dalla provincia porta su internet un vero e proprio palinsesto di cortometraggi e servizi realizzati da ragazzi italiani e stranieri dai 14 ai 19 anni. L'idea coinvolge le scuole superiori della provincia e alcuni istituti di Ungheria, Polonia, Francia e Svezia gemellati. La redazione dunque è multiculturale a tutti gli effetti. Le attività si concluderanno a maggio con un convegno a cui parteciperanno tutte le scuole. La web tv è raggiungibile all'indirizzo www.splinwebtv.it